Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, siamo nel tempo liturgico dopo l'Epifania. Ieri abbiamo ricordato che la parola Epifania significa manifestazione. Il Vangelo di oggi si ricollega con questo tema. Infatti, parla dell'inizio della vita pubblica di Gesù. Parla di quando Gesù iniziò a manifestare la sua sapienza mediante la predicazione. La sua predicazione fu la luce che illuminò il mondo avvolto nelle tenebre. Iniziò a predicare dalla Galilea. La Galilea non era guardata di buon occhio dai giudei a motivo della sua mescolanza con popolazioni pagane. Per questo motivo, fin dall'antichità, era chiamata Galilea delle Genti. La stragrande maggioranza dei rabbini era costituita da giudei. La storia ci tramanda un solo rabbino Galileo. Già questo ci fa comprendere quanto i Galilei erano disprezzati. Questo fu certamente uno dei vari motivi che indusse gli scrivi a rifiutare Gesù come Messia. Eppure, Gesù iniziò la sua predicazione proprio dalla Galilea e precisamente dal territorio di Zabulon e Manasse, affinché si adempisse un'antica profezia di Isaia, quella che si legge nella prima lettura del giorno. Un tempo, questa terra a nord della Palestina fu umiliata per l'invasione degli Assiri. Isaia allora aveva profetizzato la liberazione e la luce dopo le tenebre. Questa antica profezia trovò il suo compimento proprio con l'inizio della predicazione di Gesù. Il Vangelo, ovvero il lieto annuncio della salvezza, iniziò a diffondersi proprio partendo da questa regione considerata dai giudei quasi come una terra straniera. Da allora la cittadina Galilea di Cafarnao divenne la sede preferita da Gesù. Cafarnao era una cittadina di frontiera sulla riva nord-occidentale del lago di Tiberiade ed era un ideale punto di incontro tra genti di diversa provenienza. Già da questo particolare vediamo che, fin dall'inizio, Gesù rivolse il suo annuncio di salvezza anche ai pagani, non solo al popolo eletto. Fu poi alla sua ascensione che Gesù diede esplicitamente agli apostoli il mandato di predicare il Vangelo fino agli estremi confini della terra. La luce che i Galilei videro risplendere era quella della predicazione di Gesù. All'inizio la sua predicazione non si discostava molto da quella del Battista. Egli ripeteva con vigore l'appello di Giovanni «Convertitevi perché il regno dei Cieli è vicino». Da questo comprendiamo che la predicazione del Vangelo non è tanto un messaggio di promozione umana, di solidarietà e fratellanza, ma senza escludere questi valori, essa è soprattutto un appello alla conversione, a cambiare radicalmente modo di vivere. Bisogna innanzitutto lavorare dentro di noi e stirpare i vizi, solo così potremo sperare in un mondo migliore. «Se vuoi un mondo pulito, inizia da te stesso, inizia dal tuo cuore». «Ogni giorno siamo chiamati a convertirci», scriveva San Pio da Pietrelcina in una sua lettera. «Vi scongiuro a non mai raffreddarvi nella via del bene. Correte sempre e non mai vogliate fermarvi, sapendo che in questa strada lo star fermo equivale al ritorno sui propri passi». Ciò vuol dire che se non ci si sforza sempre di migliorare, inevitabilmente si torna indietro. La vita su questa terra è paragonata a un faticoso risalire la corrente di un fiume. Se non si continua a remare, inevitabilmente si torna indietro. Così, se non ci impegniamo continuamente a migliorare, si peggiora sempre di più. Un proposito pratico potrebbe essere quello di chiederci ogni giorno «In che cosa posso migliorare quest'oggi? Qual è il difetto che posso e devo togliere dalla mia vita?» Penso che se uno fosse sincero con se stesso, le risposte verrebbero da sole. Dobbiamo dunque far risplendere la luce della parola di Dio nella nostra vita. Domandiamoci, conosco la parola di Dio? Posso dire di meditarla come si deve? Penso che ognuno di noi, se fosse onesto con se stesso, dovrebbe dire di no. Basterebbe anche solo curare bene le letture del giorno, in modo particolare il Vangelo. La parola di Dio illumina la nostra mente, nutre il nostro cuore. La parola di Dio è difesa contro le tentazioni. Quando leggo la parola di Dio, Dio mi parla. Leggiamo senza fretta, lentamente. Imitiamo in questo le api laboriose, le quali rimangono su di un fiore finché vi trovano del nettare, dopodiché passano ad un altro fiore. Così noi rimaniamo su una pagina finché vi troviamo del nutrimento spirituale. Oppure imitiamo le pecorelle. Le pecorelle brucano l'erba e poi la ruminano lentamente. E così noi fissiamo i pensieri più belli, quelli che maggiormente ci colpiscono, e poi quando abbiamo tempo e tranquillità, ruminiamoli con calma, ripensandoci e domandiamoci cosa mi vorrà dire il Signore con queste parole? E' questa la meditazione tanto importante per il progresso della vita cristiana. Diceva un grande predicatore francescano, San Giacomo della Marca, «Coloro che non ascoltano la parola di Dio sono come gli esseri senza ragione. E che cosa ha la virtù di distruggere gli errori e le eresie? E che cosa ha convertito il mondo? La predicazione». E qual è il mandato che Cristo diede agli apostoli? Di predicare. E da dove la virtù di seminare le grazie e le virtù nelle anime? Dalla predicazione. «O santa predicazione, più preziosa di ogni tesoro, beati coloro che volentieri ti ascoltano, perché tu sei la grande luce che illumina il mondo». Dice San Bernardo, «La parola di Dio bisogna ascoltarla di buon animo, accoglierla con devozione e custodire con sollecitudine tutto ciò che riguarda la salvezza delle anime. E non va ascoltata come parola degli uomini, ma come veramente è parola di Dio, sia che essa consoli, sia che ammonisca, o anche rimproveri». E come il seminatore negligente perde la semente, così l'ascoltatore negligente perde la parola di Dio. Infine, San Giacomo della Marca diceva che, giustamente, il cristiano deve stare molto attento a non perdere neppure un frammento dell'ostia consacrata, perché in ogni frammento di ostia consacrata è presente Gesù, vivo e vero. Ma il cristiano deve stare anche molto attento a non perdere neppure un frammento di parola di Dio, ovvero deve stare attento a non perdere neppure una parola di quanto Dio ci dice nella scrittura. Sia questo il nostro proposito, dunque, lasciarsi illuminare dalla parola di Dio. La parola di Dio è la luce che illumina le nostre tenebre. Siano lodati Gesù e Maria.